ciao ecco una persona mi ha scritto diceva perché non parli di buddha buddha allora la mia esperienza ho visitato l'india ho passato del tempo con i buddhisti ma soprattutto sono andato a sarnath che a pochi chilometri sarnath da varanasi c'è varanasi sul gange la città sacra si chiamava benares a pochi chilometri c'è sarnath dove c'è il parco di buddha il parco dei cervi dove ha avuto un'illuminazione la parola più collegata buddha è nirvana nirvana ma che cosa vuol dire nirvana allora vana vuol dire foresta ed è associato con la mente il villaggio dove ha apparso krishna in india vrindavana è la foresta degli alberi vrinda vrinda otulasi sono una specie di basilico hanno visto tra l'altro che il basilico ha delle proprietà anticancerogine fa bene alla salute quindi c'è il basilico chiamato sacro avevo letto che dove cresce il basilico poi costruiscono la basilica perché il terreno è favorevole quindi la madre terra la terra favorevole ora sono andato in questo posto più volte nel corso degli anni sarnath e ho capito che cosa intende lui per nirvana lui intende che il principe siddhartha che poi si è definito colui che ha risvegliato buddhi l'intelligenza allora spiego quello che ho capito abbiamo cinque sensi fino qui cinque vortici qui e cinque sensi poi qui c'è la mente chiamata anche vana tra il sesto vortice chakra il settimo laureola quello della coscienza il settimo cielo la coscienza noi siamo coscienza eterna che entrando in contatto con l'energia materiale con la materia può essere confusa poi nascendo in una famiglia in una comunità che ci danno delle informazioni tipo negare la reincarnazione sono tutte le religioni monoteistiche ebraismo cristianesimo e islam negano la reincarnazione tutte le altre buddismo induismo jainismo tutto il gruppo orientale invece si basa sulla reincarnazione cioè accetta la reincarnazione per cui noi siamo coscienza eterna chiamata anche brahman aham brahman asmi io sono coscienza eterna la qualità una delle qualità di questa coscienza di te e coscienza è l'intelligenza quindi l'intelligenza buddhi fa sì che noi possiamo dal sesto chakra andare al settimo cioè dal sesto andare al settimo passare a un chakra superiore quindi nirvana uscire dalla foresta c'è una parola simile che non è conosciuta in occidente per chi si interessa di yoga di meditazione che è nirguna allora l'energia materiale che con cinque elementi compone il nostro corpo e quindi influenza anche la mente è composta da tre influenze forze una tama la forza d'inerzia noi l'ospetto è chiamato atama atma atma vuol dire non buio perché la forza d'inerzia è vivere al buio intrupparsi in una famiglia in una squadra in un gruppo in una comunità e credere che quella quella famiglia quel gruppo quella nazione siano il migliore sia al meglio quindi c'è un processo di intruppamento di adesione e sentirsi parte in modo passivo con una maglia una divisa un uniforme un distintivo un'iniziazione un'appartenenza poi c'è il secondo guna guna vuol dire corda legame raggia passione creatività quindi la maggior parte delle persone sono tenute come greggie come gruppo poi ogni tanto qualcuno è più creativo cerca di prendere il sopravvento usando l'arte la religione la politica l'economia il commercio a un livello superiore di raggia c'è satwa da sat conoscenza la verità la verità è conoscenza la conoscenza è verità ed è l'influenza dei l'influenza più benefica perché quella chiamata della virtù della virtù per capire bene questo bisogna andare dal sesto chakra al settimo quindi uscire da vana dalla mente e uscire nirguna dall'influenza dall'influsso delle tre influenze della natura materiale e questo è chiamato il nirvana poi che i monaci vanno tutti vestiti uguali poi si dice che l'abito non fa il monaco però molti monaci li riconosci e si riconoscono e sono contenti io ho frequentato diverse comunità ci ho passato del tempo mi ha interessato stare anche in india con induisti buddisti ma io mi considero voglio essere uno spirito libero che viaggia eternamente liberamente nell'infinito possiamo viaggiare nel ciclo nascita vita morte che su questo pianeta c'è anche la malattia la vecchiaia in altri pianeti c'è solo nascita vita morte poi rinascita oppure possiamo vivere allo stato puro allo stato originale in cui non ci sono limiti allora quella viene chiamata beatitudine felicità nirvana illuminazione satori ci sono tante parole per spiegare questo nirvana poi che il buddismo sia una religione molti dicono una religione senza dio altri dicono no è una religione storica come le altre io personalmente seguo una linea sanatana eterna dharma della spiritualità eterna chiamata sanatana dharma in cui se non hai la conoscenza vai a cercarla se non trovi nessuno mettiti a riflettere si introspettivo mettiti a meditare e risveglia spiritualmente la tua vera identità che è quella di essere spirituale eterno essere vivente eterno e multidimensionale questa è una breve spiegazione del nirvana e quello che ti posso dire è che possiamo raggiungere questi livelli superiori andando oltre la mente altrimenti molte persone vivono in un ciclo primo chakra secondo terzo quarto quinto sesto poi ritornano sfiorano il settimo ma non vanno anche perché quando la tua livello di coscienza è sul settimo chakra il settimo cielo laureola l'interesse per le cose materiali diminuisce progressivamente e nasce il grande desiderio di provare un gusto superiore ma per provare un gusto superiore bisogna controllare in modo sereno pacifico la mente ed essere nirvana uscire dalla mente andare oltre la mente non andare contro la mente ma andare oltre la mente è come quando uno fa il bagno al mare si toglie i vestiti poi perché perché vuole avere un rapporto diretto con l'acqua di mare se noi vogliamo avere un rapporto diretto con l'infinito dobbiamo uscire dall'identificazione con il corpo con nama e rupa il nome rupa la forma ce la puoi fare auguri buon nirvana grazie